Mi parla come sempre Don Leonardo Maria Pompei e da oggi, ragazzi e ragazze carissime, mi dovete perdonare perché facciamo un nuovo rimando per quanto riguarda la prosecuzione, ricorderete delle catechesi sull'amore umano che abbiamo iniziato circa un mesetto fa e che abbiamo poi sospeso prima di Halloween per lasciare spazio alla catechesi su Halloween, poi c'è stato il primo di novembre in cui è andata in onda la programmazione festiva e quindi abbiamo saltato il nostro appuntamento del martedì. Oggi c'è un altro tema assai importante, a mio parere, con il quale desideravo intrattenermi con voi ragazzi e ragazze carissime. Sapete che è iniziato il mese di novembre e il mese di novembre nella Chiesa Cattolica è tradizionalmente dedicato ai defunti. Il mese di novembre, sapete, inizia facendosi contemplare il paradiso, con la bellissima festa del primo di novembre, dove abbiamo contemplato i nostri veri fratelli maggiori che sono i Santi di tutte le età e di tutte le categorie che hanno percorso con entusiasmo, con gioia e con allegria, l'avvincente e anche per certi aspetti impervio, ma assai bello cammino verso la Santità, mentre subito dopo, il giorno dopo, ricorderete, la Chiesa ci ha fatto contemplare i fedeli defunti, quindi da un lato i Santi, dall'altro coloro che non hanno raggiunto l'obiettivo proprio della Santità in grado eroico, quindi il martirio o comunque la pratica eroica delle virtù cristiane che mette in condizione di poter essere immediatamente o quasi assunti in paradiso, ma che appunto sono morti nella fede, dice la preghiera ocaristica 1, che si sono addormentati nella fede e dormono il sonno della pace e che appunto stanno vivendo il tempo di purificazione dopo la morte. Ecco, io ragazzi e ragazze carissime volevo un pochino parlare con voi di questo argomento e vi prego di non prenderla male, nel senso di dire ma questa è una catechesi giovanile e tu Don Leonardo ti metti a parlare della morte, ma la morte è una cosa lontana da noi, è una cosa che non ci riguarda. Io vi auguro di sì, a parte che puoi augurarsi di vivere a lungo o meno a lungo, se sia un bene o se sia umane, questo non sempre è come la pensa il pensiero comune, è come la pensa l'opinione comune, scusate. Tuttavia non è che desidero insomma, come dire, ingenerarvi tristezza, però io da sacerdote proprio giovedì scorso, quindi qualche giorno fa ho celebrato il funerale di un bambino di 11 anni, quasi 12, morto in circostanze assolutamente tragiche e non è stata la prima volta nei miei 7 anni e mezzo di sacerdozio che ho dovuto affrontare un momento così difficile, ce n'è stato uno ancora peggiore, un funerale di un bambino morto a nemmeno 4 anni e morto in circostanze diciamo se non improvvise, come in questo caso che è stato un incidente, quindi un evento davvero drammatico, non meno tuttavia tragiche perché un bambino morto a seguito di un lunghissimo tumore che lo ha fatto lentamente spegnere dopo innumerevoli sofferenze e tentativi di cure durate circa un anno. Chi di voi ascolta sempre le catechesi del martedì ricorderà che qualche tempo fa io ho raccontato la mia personale esperienza e da un lato di conversione ma anche di vocazione, ricorderete che io sono diventato prete e nonostante i progetti che avevo ciò è da attribuire alla sofferenza e alla morte da santo del mio migliore amico che ha causato diciamo così due vocazioni, quella mia e quella dell'altro amico della triade fantastica di quando eravamo giovani che adesso è padre Fabio, prima era Fabio, poi siccome prima io ero Leonardo e adesso sono Leonardo con il don davanti, quindi un evento tragico, Francesco, questo mio amico aveva 23 anni quando si spense dopo anche lui un anno di via crucis con un terribile tumore. Io ho uno zio che si spense improvvisamente, è uscito di casa un giorno, aveva circa 50 anni e non si è tornato più perché gli ha preso un infarto, quindi allora la morte è un appuntamento certo, futuro, invece ragazzi non fate gesti apotropaici con i ragazzi né le ragazze né quelli un pochino più grandi, però l'unico appuntamento che non è sicuro, sapete qual è? È quello col domani, noi non siamo mica sicuri che domani a quest'ora, io chi vi parla facciamo così, non sono affatto sicuro che domani a quest'ora starò in carne e ossa e nel pieno delle mie facoltà, se Dio vuole, sì, ma se Dio avesse stabilito che questa notte mi viene chiesto conto della mia anima, ecco, quindi bisogna fare attenzione ragazzi, se ascoltate Radio Buon Consiglio, vi ritengo delle persone, se non dico intelligenti tutti quanti, ci siamo però, che si pongono un minimo di domande o quantomeno che cercano di affrontare la vita con un minimo di coscienza, noi sappiamo, qui stiamo su un canale francescano, Radio Buon Consiglio è gestita tra virgolette come tutti sapete dalle sole francescane dell'Immacolata, francescane oltre che dell'Immacolata e San Francesco chiamava la morte sorella, ricordate il cantico di Fate Sole, giungeva a dire laudato sì, mi signore, dalla quale nullo uomo può scampare, però poi aggiungeva guai a quelli che troverà negli peccati mortali, beati coloro che troverà in grazia di Dio perché a loro non potrà far male, diceva sempre San Francesco, chi usando un brano famoso dell'Apocalisse dice quelli che invece morranno in grazia di Dio, a loro la seconda morte non potrà fare alcun male. Ecco, quindi la morte è un problema che c'è, se voi ci pensate il nostro futuro noi non lo conosciamo, io non so né se domani sarò vivo e nemmeno a me se non concesso che sia vivo che cosa farò tra dieci anni, cosa succederà tra dieci anni di me, io non lo so, certamente posso dirvi che dieci anni fa non immaginavo assolutamente che avrei fatto una trasmissione sull'Apocalisse da prete e parroco, era proprio assolutamente alieno, non sapevo neanche che esisteva l'Apocalisse, non sapevo neanche che esistevano i franciscani dell'Immacolata, quindi capite in questi archi di tempo, noi ignoriamo il nostro futuro, però l'unica cosa sicura che sappiamo è che ci sarà un giorno in cui moriremo, questo è un evento futuro e certo, se ci fate attenzione e se ci pensate è l'unico evento futuro e certo, ora questo evento oltre che essere futuro e certo è anche, come si capisce da queste brevi citazioni che vi ho fatto del grande padre San Francesco, l'evento decisivo perché come ci coglie la morte così noi rimarremo per tutta l'eternità e bisogna vedere se la morte ci coglie nell'amicizia con Dio o nella non amicizia con Dio, se voi capite che per essere non amici di Dio si deve andare tutti quanti a catechismo, io in altre circostanze ho cercato anche di rispolverare un po' di catechismo anche su queste frequenze perché so, essendo un parro che facendo anche io a mia volta catechismo, purtroppo tanti ragazzi oggi sono un po' disorientati, nel senso che proprio le regole elementari, l'ABC della nostra fede non è che lo sanno tanto, per esempio non sanno molti di loro che per perdere la grazia di Dio, quindi state attenti ragazzi, è per mettersi in stato di dannazione, capite cosa significa stato di dannazione? Vuol dire che se uno muore va all'inferno, basta mancare una volta ammessa la domenica e non confessarsi, capite? Quindi bisogna fare un pochino di attenzione perché la morte che è l'evento decisivo, cosa fanno gli uomini del nostro tempo? Cosa fanno? Non ne parlano, è proibito pensarci, è proibito parlarne perché altrimenti uno porta iella, perdonatemi l'espressione, altrimenti uno porta tristezza, eccetera, e quindi la si ignora, stupidamente, correndo il rischio che si arrivi all'appuntamento con questo evento del tutto impreparati. Io vi parlo da prete, sapete su tutti quanti funerali che io celebro in un anno, se vado a fare una statistica, diciamo che su 30 funerali forse 5-6 persone, forse, sono morte con i sacramenti, sacramenti che poi vuol dire nella quasi totalità dei casi soltanto l'olio santo, perché quelle volte che almeno dalle mie parti e oggi chiamano un prete quando uno non capisce più niente, quindi né si può confessare, né gli si può dare il viatico, cioè l'ultima comunione, cosa che è importantissima, il massimo che si può fare è ancora vivo, gli si può dare l'olio santo che certamente è un sacramento, a far bene qualcosa la fa, purché la persona sia ancora viva, però certamente sarebbe l'ideale ricevere i sacramenti nel pieno delle proprie facoltà, però non bisogna chiamare il prete perché se no per pomerino si impressiona. Vedete la stupidità, no? Quindi con questa considerazione che apparentemente sembra mossa da carità cristiana, ma in realtà viene dal diavolo, ve lo dico proprio così come è crudamente e candidamente, si nega la grandissima carità ai nostri cari di potersi preparare e magari darsi una ripulita all'anima prima di incontrarsi con il nostro Signore. Questo è sicuramente il modo sbagliato per porsi con questo problema, quindi oggi volevo un pochino affrontare con voi tutta la dinamica, la visione cristiana di sorella morte, il modo con cui ci si prepara e anche la sorte ultraterrena delle anime, perché uno dei messaggi che oggi va tanto in voga e farò nuovamente per il vostro bene dei riferimenti volutamente polemici a recenti fatti di cronaca, è che successi di canonizzazione immediati. Muore uno senza sapere che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, magari sono vent'anni che non mette i piedi in chiesa o che non si confessa o cose del genere, che succede? Il funerale è santo, da quello che si dice in quel contesto guai, adesso lui si trova presso il Signore, eccetera, eccetera, quindi la gente che partecipa a queste cose, che pensa? Chi muore vanno tutti in paradiso, cosa che non è assolutamente vera, come vedremo, e non è che uno vuole dire queste cose per creare tristezza, perché i santi hanno vissuto queste cose senza nessuna tristezza, però con la cristiana consapevolezza e dello slancio e dell'impegno anche nel crescere nelle virtù e nella santità, per trovarsi il meno impreparati possibile all'incontro con il Signore, ricorderete il Vangelo di domenica scorsa, le Dieci Vergini, io ho detto ai miei fedeli, dico ragazzi miei, le vostre lampade sono accese o sono spente? Perché se le lampade sono spente, Gesù ti dirà io a te non ti conosco e ti dirà non ti conosco, sapete perché, no? Non vi rifaccio tutta l'omedi e domenica scorsa, perché noi non abbiamo conosciuto Lui, non abbiamo speso bene il nostro tempo, come il Catechismo di San Pio X si insegna, a conoscere Dio, ad amarlo e a servirlo, come dobbiamo fare in questa vita, per goderlo nell'altro, perché tutti aspiriamo al Paradiso, ma in Paradiso ci andrà chi ha conosciuto, amato e servito Dio in questa vita, non chi ha volutamente misconosciuto, non amato e non servito Dio ma il demonio, vivendo una vita lontana da Dio e di peccato. Noi dobbiamo pensare ai peccati, diciamo ma quello è tanto un bravo ragazzo, cosa ha fatto? Andava bene a scuola, aiutava gli amici, non faceva male a nessuno, non rubava, poi però magari si faceva le canne, perdonatemi, non mandava la messa, bestemmiava, aveva degli atteggiamenti sessuali completamente disinvolti, io ricordo una volta, penso di poter, che non si offenda se la chiamo in causa, tanto non la conoscete, viene mia nipote a dirmi, zio ma senti un attimo, ti posso fare una domanda? Dico certo cara, dimmi che è successo? Ma senti un po', è morto l'incidente un mio amico, una persona che conosceva abbastanza bene, sai di quelli con cui ogni tanto si esce, non è che era come un grande amico, ma era una persona che conosceva bene, ai funerali chiaramente c'era mezza latina, io sono di latina come molti di voi parlando, c'era un sacco di gente, il parroco durante la predica ha cominciato a dire che questo è un angelo che prega per noi, che sta in paradiso a destra e a sinistra, io mi sono guardato un pochino intorno, un pochino in giro, vedevo anche alcune facce un po' così, perché per quel po' che lo conoscevo, insomma questo, zio, per carità, non è che era un criminale, non era un boss della camorra, però questa chiesa piede non ce l'ha messo mai dal giorno che ha fatto la gresima e c'aveva vent'anni a quell'epoca, confessione non l'ha fatta mai da quando c'aveva vent'anni, la parola è trenta bestemmie e non si sa quante fidanzate c'ha avuto e quante giovanotti vergine ha fatto piangere, non si sa quante canne si è fatto, non si sa quante notti bravi in discoteca si è fatto, non si sa quanti litri di birra si è bevuto e quanti litri di vino si è bevuto, è andato in paradiso, allora all'uscita tutti quanti gli amici suoi dicono, hai visto il prete che ha detto, se va pure in paradiso, quindi che ci importa, non serve a niente andare a messa a fare tutte queste cose qua, tanto prendono in paradiso, voi capite il messaggio devastante, io spero che voi non pensiate a una cosa di questo genere, non è essere buoni, fare una predica di quel genere a un funerale, il prete, io non voglio manco sapere chi è, non lo so e non lo voglio sapere, che ha detto quelle cose, io vi dico in nome di Dio che quando si troverà davanti al nostro Signore si beccherà una di quelle ramanzine se va bene, che se le ricorda per tutta l'eternità, perché il danno fatto da un messaggio del genere è enorme, non soltanto per quell'anima di quel povero disgraziato che se sono vere tutte queste cose e non si è pentito, ragazzi non è andato in paradiso, purtroppo è andato all'inferno, se non si è pentito almeno in punto di morte, non in paradiso, ammesso e non concesso, poi lo vedremo che magari si sia pentito proprio nell'ultimo istante della vita, ma sapete quanto purgatorio si deve fare un ragazzo che è vissuto così? Quanto e quanto duro? Lo vedremo adesso durante il corso di questo incontro e se uno pensa che sta in paradiso, chi gli farà mai dire una messa a quel ragazzino lì? Nessuno, raggiuntano in paradiso? Che gliela facciamo di affare? Chi dirà mai un rosario in soffragio di quell'anima? Nessuno, sta già in paradiso, chi dirà mai un eterno riposo per quell'anima? Nessuno, sta già in paradiso, capite i danni che si fanno, quindi ignorare la dottrina cristiana sulla morte e su ciò che sta intorno alla morte significa uno, farsi dei danni incalcolabili oggi e adesso lo vedremo perché, ma secondo anche fare dei torti atroci, terribili alle anime che sono già trapassate. Voi dovete sapere, faremo riferimento, adesso vi dirò anche qualche titolo se qualcuno vuole approfondire a tanti scritti che ci sono su queste materie, soltanto se uno li volesse conoscere, di santi e mistici, alcuni di loro dicono che le anime del purgatorio stanno tutto l'anno ad aspettare che arrivi il 2 di novembre, lo sapete perché? Perché il 2 di novembre i sacerdoti sono obbligati ad applicare la messa che celebrano per tutte le anime del purgatorio, specialmente per quella a cui non prega mai nessuno, quindi immaginate che in un giorno, non lo so, adesso dico una cifra, si celebrano 50.000 messe, spero qualcuna in più, però prendete questo numero per quello che è, 50.000 suffragi arrivano per tutte le anime purganti, sono pochissime, però in quel giorno anche le anime dimenticate hanno un minimo di refrigerio, finito il 2 di novembre raccontano i santi e i mistici, cominciano a mettere il conto alla rovescia per il 2 di novembre dell'anno dopo. Pensate che Maria Simma, una mistica austriaca morta nel 2004, il concetto di santità è una mistica attendibile, sia sul sito della mia parrocchia che sul mio canale di Facebook, che poi eventualmente vi ricordo ci sono caricati video che contengono queste interviste, racconta che tra le tanti anime che gli era apparsa, gli era apparsa l'anima di una persona che erano 1500 anni che stava in purgatorio, era morta nell'anno 500, pensate un po', e generalmente quando gli accadono queste cose a queste anime, quando poi gli raccontano, ma questo che ha fatto, sicuramente non sono peccati per i quali noi penseremmo che sia opportuno o necessario fare 1500 anni di purgatorio, quindi pensate ai danni. Allora, prima di entrare ulteriormente addentro a questi argomenti vi do alcune informazioni, anzitutto vi ricordo il numero di telefono della Radio Buon Consiglio, che è 0825 444 391, per chi volesse intervenire in diretta, che siamo in diretta, o anche al termine della trasmissione, parlando con le suore per chiedere qualche chiarimento o qualche cosa. Ci sono alcuni testi da leggere delle anime del purgatorio, per esempio di Maria Simma, che vi ho appena citato, ci sono due testi, uno si chiama Fateci uscire di qui, e un altro è contenuto in un volumetto edito dalla Shalom, che si chiama Il meraviglioso segreto delle anime del purgatorio. C'è una grande santa italiana, non molto conosciuta, una santa di Genova, che sicuramente in questi giorni starà pregando un po' per i suoi concittadini, che è Santa Caterina da Genova, che ha scritto Il trattato del purgatorio, che è un best seller anche per comprendere un pochino queste cose. Poi ci sono alcune pubblicazioni fatte dalle edizioni segno. Una si chiama Sete del Dio Vivente, che è davvero bella, sottotitolo Meditazione sul purgatorio negli scritti mistici. Qui si trovano praticamente cinque secoli di autori, tra cui anche grandi santi, tipo Santa Brigida da Svezia, Santa Caterina da Siena, grossi no, Santa Teresa Davila. E praticamente c'è una raccolta di tutto quello che hanno scritto sul purgatorio questi grandissimi santi. Io non lo so se questi testi si trovano ancora in giro, perché io ero presi tanti anni fa, sono davvero molto belli. Poi ce n'è uno che vi citerò, di Suor Maria della Croce, un'altra grande anima che si chiama Il manoscritto del purgatorio. Molto utile a capire un po', diciamo così, com'è fatto il purgatorio, perché anche questo si sa se uno lo va a indagare. E ce n'è un altro poi di Maria Anna Lindmayr, che è il mio rapporto con le anima del purgatorio. Ora, sul sito della mia parrocchia, che vi ricordo, ci sono sia due video, nell'area video, ci sono sia due video brevi di Maria Sim, che vi dice alcune cose molto interessanti, sia c'è proprio una sezione dell'area video che è dedicata a Natuzza Evolo. Non so chi di voi conosce Natuzza Evolo. Natuzza Evolo è morta esattamente due anni fa, il primo di novembre. Era una mistica italiana, mistica sia stigmatizzata, sia un caso unico nella storia della Chiesa, perché presentava un fenomeno mistico anomalo, che era quella della emografia, cioè delle scritte di sangue che gli apparivano in tutte le parti del corpo, scritte oppure immagini di crocifissi, di coronazione di spine, etc., sulle varie parti del corpo. Era una donna semplicissima, di una semplicità tanto grande quanto grande era la sua fede, sposata, vedete che anche le persone sposate possono essere destinatari di grandi doni soprannaturali, mamma di cinque figli che aveva il dono di parlare con le anime abbandonate del purgatorio. Io credo molto a Natuzza Evolo, che è morta in concetto di santità, io conobbi a suo tempo il padre spirituale e so che era seguita dal vescovo, perché il vescovo stesso non aveva alcun dubbio sulla veridicità dei doni che questa donna aveva, lei le diede delle informazioni incredibili alla madre su quel mio amico defunto, tra cui una cosa che disse e che nessuno poteva sapere all'epoca, ed era questa, che dice praticamente Francesco ha già ricevuto da Dio la sua missione, tenete presenti che questo accadde circa due-tre mesi dopo la sua morte, Francesco è morto nel 1993, io sono entrato in seminario nel 1996, sono diventato prete nel 2004, Fabio il mio amico addirittura è entrato in seminario nel 2000 e è diventato prete nel 2010, pensate un po', due mesi dopo la morte, due-tre mesi dopo la morte vanno da Natuzza e Natuzza dice che Francesco che stava in paradiso perché aveva già fatto il purgatorio sulla terra con tutta la croce che aveva vissuto e per l'accettazione della malattia e della morte, ha già ricevuto da Dio la sua missione che è quella di pregare per i suoi amici sacerdoti, dovete sapere però che Francesco in vita non aveva amici sacerdoti, quindi nessuno capì quella frase sul momento, vuol dire che fin da quel momento Dio che conosce il futuro disse a Francesco, e lo ringrazio anche tramite le frequenze di questa radio, che doveva cominciare a pregare perché i due poveri peccatori dei suoi amici che avrebbero anche grazie al suo sacrificio scoperto il dono della vocazione. Quindi il sito della parrocchia, non ve l'ho detto, è www.parrocchiasanmichele.eu Mentre per chi volesse anche condividerli su Facebook, i video di Maria Simma si trovano anche sulla mia pagina di YouTube, che si chiama L maiuscola Leonardo Maria Don, tutto attaccato, L maiuscola, M maiuscola e D maiuscola, ripeto Leonardo Maria Don, per chi volesse approfondire. Poi per chi volesse non se ne fosse scritti i titoli di questi libri, o contatta le suore che lo mettono in contatto con me tramite mail, oppure troviamo un altro sistema. Alcuni di questi sono facilmente reperibili, per esempio i testi di Maria Simma e di Santa Caterina da Genova sono facilmente reperibili. Quelle dell'edizione segno, bisogna andare sul sito dell'edizione segno e verificare, perché molti di questi titoli sono esauriti e se non hanno fatto le ristampe sono almeno momentaneamente irreperibili. Mentre il mondo contemporaneo esorcizza il pensiero della morte, la tradizione cattolica ha sempre insegnato esattamente il contrario, che la migliore terapia di affrontamento della morte è quello di pensarci, di pensarci come un fatto reale. Ce lo dicono anche i Vangeli, vi ripeto, anche il Vangelo di domenica scorsa, ma tutte le parabole di Gesù le sentiremo adesso poi, specialmente ora che ci avviciniamo verso il termine dell'anno liturgico, tenersi pronti per il ritorno del padrone, la parabola dei talenti, tutte quante le cose che noi ci fanno comprendere come la vita terrena in effetti non è altro che un tempo di preparazione, di accumulo, di meriti, di opere buone per presentarsi davanti al Signore pieni di doni, che non sono altro che i frutti derivanti dalle sue grazie, di no, di no c'è proprio ben poco, ma che comunque sono in qualche modo figli del nostro lavoro, della nostra collaborazione. Il motto che si trovava anche, che era molto diffuso anche nelle case religiose di Dio un tempo, era Memento Mori, cioè ricordati che devi morire, te lo devi ricordare, questo pensiero, ripeto, non deve far venire l'angoscia, perché per noi cristiani, per i figli di Dio, la morte non è una tragedia, certamente non è un fatto piacevole per come la viviamo adesso dopo il peccato originale, però dice il prefazio della Messa dei Devonti, ai tuoi fedeli o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata e distruggendosi la dimora di questo esilio terreno, riceviamo un'abitazione celeste dal cielo, è un prefazio che fa eco ad un noto passo delle lettere di San Paolo, quindi noi non dobbiamo pensare a questo, cioè San Paolo dice anche che il giorno del Signore viene come un ladro, per coloro che sono vissuti al buio, per coloro che sono stati lontani da Dio, ma per noi che siamo stati vicini in qualche modo, che vogliamo amare il Signore, che ci proviamo con tutte le altre nostre miserie, la morte dovrebbe essere un evento piacevole, non dico piacevole perché è un po' troppo, ma un evento da affrontare con serenità, perché non è altro che la fine della vita terrena e l'inizio della vita eterna, si lascia questo mondo che è davvero ragazzi e ragazze, io non lo voglio, non mi voglio ruinare la giovinezza, ma io adesso comincia a averci 40 anni e più tempo passa, più comprendo la preghiera della salvo regina, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime, vedrete purtroppo che la vita riserva una serie di inenuttabili, non c'è sistema per scampare dalle sofferenze, quindi o ci facciamo pace o ci facciamo la guerra standoci peggio, o le trasformiamo con con la carità e l'aspirato di accettazione e di offerta in monete per guadagnarci il cielo e per cominciare a espiare il purgatorio sulla terra, oppure diventa un inferno anticipato, a noi decidere se trasformare la vita terrena nell'anticamera dell'inferno o nell'anticamera del purgatorio e quindi nell'anticamera del paradiso, non ci sono altre alternative ragazzi. Ed è bene che nonostante la spensieratezza della giovinezza, il momento in cui non si vogliono avere troppi pensieri, si sorride alla vita, ci si desidera divertire cose per certi aspetti normali e anche giuste, purché le si perseguono nel debito modo, tuttavia è bene non dimenticare questo pensiero, anche per non trovarsi impreparati dinanzi ad eventi tragici che possono colpire anche le persone a noi vicine, può succedere questo qui, non possiamo pensare che succede sempre agli altri, ogni volta che una disgrazia cade in una famiglia lo shock deriva dal fatto che non è che nessuno sa o è consapevole che le disgrazie non accadano, ma si pensa sempre a quelle come a cose lontane, quando non è così possono essere cose vicine. Per chiudere un pochino quell'argomento previo, di non fare le canonizzazioni ai funerali, io mi sono molto amareggiato nel sentire le cose che sono state dette e fatte ai funerali di quel poveraccio di Marco Simoncelli, che sembra adesso essere diventato il benefattore dell'umanità, insomma l'idolo delle… per carità nessuno nega che fosse un bravo ragazzo e che fosse un ottimo motociclista, però io dico sempre ai miei fedeli che un conto è essere una brava persona, un conto è essere un bravo cristiano, già su questo c'è una differenza enorme, un conto ancora è essere un santo, non è detto che una brava persona sia un bravo cristiano, perché una persona che non fa male a nessuno, se può aiutare il prossimo lo fa, che non dà fastidio, che non lei dei diritti altrui, che non lo so, che mangia, beve, dorme, si diverte spensieratamente, che ha una certa disinvoltura, io non dico che Marco Simoncelli facesse questo, non lo conosco, però essendo un ragazzo di 24 anni spero che fosse santo, magari io ti ripeto non lo conosco, però la media di questi tempi, insomma anche l'ambiente in cui stava, non lo so se è così grandemente ammantato di santità, no? Allora descriverlo come uno che è volato al cielo e che insegna gli angeli a impennare, non lo so, mi ha fatto un male, ripeto, non le devo dire queste cose qui perché sono cose pubbliche, quindi non si tratta di parlare male di... a me ha fatto male, ha fatto male non soltanto per il contesto, ma anche per... vi rendete conto quanta gente ha visto quei funerali e adesso se andate su YouTube trovate tutti quanti i video proprio di queste parole, che sono quelle che fanno più effetto sulle persone e sui cuori teneri di chi è facile all'emotività, ma che danno dei messaggi devastanti, capite? Devastanti, per il nostro bene? Allora, cosa succede quando arriva sorella morte? Lo sappiamo fratelli e sorelle carissimi? Allora, la sorella morte è un fenomeno per certi aspetti molto molto semplice da comprendere, la morte avviene quando la nostra anima si separa dal nostro corpo, la Chiesa ci insegna che questo brutto evento, che è un evento innaturale perché la nostra anima è stata fatta per essere la forma sostanziale del nostro corpo, noi non saremmo dovuti morire, lo sapevate, ve l'hanno insegnato al carichismo, secondo i figli, il progetto di Dio, non ci sarebbe stata la morte, quantomeno la morte come traumatica separazione dell'anima dal corpo, sarebbe a tutti noi successa una cosa simile a quello che successe alla Madonna, che è stata assunta in cielo, come sapete. La Madonna si è addormentata placidamente nella sua ultima estasi e è uscita dall'estasi, anziché tornare nel corpo sulla terra, si è ritrovata col suo corpo in paradiso, è passato lì dagli anni, quindi una cosa di cui non se ne ha assolutamente nemmeno accorto, l'ingresso nel paradiso sarebbe stato una tenera, una bella, un ultimo e sereno viaggio dalla terra al cielo dopo una vita vissuta nell'amicizia con Dio, come è stata la vita dell'immacolata. Non il trauma di vedersi il nostro corpo decomporsi, sapete che la Madonna disse durante le apparizioni qui vicino dalle mie parti alle Tre Fontane disse proprio il mio corpo non poteva marcire, sentite, e non marci, perché non aveva fatto peccati, i nostri marciranno, quindi quando arriva la morte i nostri corpi marciranno, dobbiamo ricordarcelo, quando la Chiesa si mette il mercoledì delle ceneri, delle ceneri in testa, si dice ricordati che se hai polvere, in polvere ritornerai quel corpo che tanto idolatriamo tante volte, che sembra che esistiamo soltanto per il corpo, si fanno il culturismo, i pesi, lo sport, le diete, le digiuni non si fanno perché se digiuno poi mi sento male, però se metto un chilo di troppo e poi non posso fare lo show pubblico che tutti mi guardano che ho la linea e che ho il bottone della cinta che è scalato, allora posso fare digiuni terribili perché devo perdere un chilo, però se devo fare il digiuno verdi santo non mi va, non ho voglia e non si fa, vedete le assurdità, corpo idolatrato e diventerà cibo per i vermi, anima trascurata ed è ciò che invece sopravvive al corpo e che dal momento della morte si apre per lei una triplice prospettiva. La dannazione l'abbiamo già vista, per oggi non approfondiamo questo punto, l'abbiamo fatto in altre circostanze, se muore è stato di nemicizia di Dio, la gloria, tenete presente però che la gloria immediata, cioè muori e che va in paradiso è fenomeno molto, molto, molto raro. Lo si può dare per certo, proprio per certo senza alcun dubbio, in due circostanze, uno quando uno muore martire, due quando muore un bambino molto piccolo, ma molto piccolo vuol dire al di sotto dei cinque anni e forse anche meno, perché alcune anime mistiche raccontano che in Purgatorio si trovano bambini di sei anni, capite? E questo fatto è confermato per esempio dalle rivelazioni della Madonna di Fatima, perché chi conosce le apparizioni di Fatima sa che nella prima apparizione, quando sua Lucia cominciò a chiedere un sacco di cose riguardo ad alcune sue amiche morte, a un certo punto chiese se lei, Giacinta e Francesco sarebbero andati in paradiso. La Madonna rispose di tutti e tre, ma di Francesco disse sì, ma deve recitare molti rosari. Tenete presente che Francesco all'epoca aveva, se non ricordo male, otto anni. Quindi a otto anni un bambino vissuto in Portogallo, nel Santo Portogallo, cento anni fa, non oggi, immaginate un bambino di otto anni di oggi, già si era accumulato una quantità sufficiente di Purgatorio che dove essere, come dire, neutralizzata da tanti rosari, otto anni. Quindi, capite? Magari se fosse morta quelli, questo andava subito in paradiso. No, poi li ha detti tanti rosari e per la morte che ha fatto, veramente eroica, probabilmente Francesco non ci è passato per il Purgatorio, se non proprio di sfuggita. Ecco, però questo per farci un attimo capire. pensate che Natuzza, Evolo e Maria Simma, le due ministri che vi ho accennato, raccontano Concordia, Natuzza in particolare, che addirittura Padre Pio, vi rendete conto? Padre Pio si è fatto tre giorni di Purgatorio. Ne ha parlato anche a Redo Buon Consiglio il nostro amico Claudio Nalini in alcune trasmissioni che ha fatto e che forse avete sentito. Tre giorni di Purgatorio, uno dei più grandi santi della storia della Chiesa, che ha portato l'estigma di nostro Signore per 50 anni, ha ricevuto terribili vessazioni dal demonio che lo ammazzava di botte un giorno sì e l'altro pure, è stato perseguitato dalla Chiesa stessa con delle sofferenze inaudite, ha praticato delle penitenze fin da quando era bambino che fanno spavento soltanto a pensarci, era un bambino di 5-6 anni quando si fragellava con certi catenoni grossi come non mai, sono fatti storici, questi qua non sono invenzioni. Si è fatto in questa sede, lo fece Claudio a suo tempo, la motivazione, che se uno riflette sulla motivazione è ancora più sconcertante, quanto il Signore nelle anime così privilegiate guardia anche davvero, come lui stesso diceva, il pelo nell'uovo, perché sarebbe stato tre giorni nel Purgatorio nel grado più alto, adesso lo vedremo, non ha certamente sofferto, è stato un Purgatorio di desiderio, non in quello dove c'è poco, semplicemente perché durante le sante messe che si celebravano al piano di sotto della sua chiesetta, lui stava sopra e matroneva a pregare e la gente che stava sotto si distraeva durante la messa, perché anziché stare a pensare alla messa guardava Padre Dio. Quindi per questa, che cos'è questa? Un'imperfezione in causa, cioè che lui sarebbe dovuto arrivare al fatto che la gente stava a guardare a lui e che durante la messa sarebbe dovuto andare via, non ha fatto questo tre giorni di Purgatorio di desiderio. Non so se voi insomma, e noi canonizziamo a tutti quanti i funerali, gente che è sparita dalla circolazione e che non si è vista in chiesa per 30 anni. Io quando penso a queste cose, io ho un dolore nel cuore immenso, perché se noi facciamo sbudellare, perdonatemi il termine, da ridere, Satana e i suoi amici, che proprio si fanno beffe di noi, si fanno beffe, secondo me, proprio si stanno, gongolano e dicono ma si possono essere più idioti e più stupidi di questi uomini? Ponto interrogativo. Purtroppo oggi è il tempo della follia allo Stato puro. Allora, moltissime anime, moltissime, finiscono in Purgatorio. Che cos'è questo Purgatorio? Il Purgatorio è un luogo che meno male che esiste, è un luogo di purificazione, è un luogo in cui l'anima deve fondamentalmente compiere una duplice forma, diciamo così, di espiazione e purificazione. Da un lato deve purificarsi delle proprie colpe. Perché questo? Perché quando noi pecchiamo, state attenti ragazzi e ragazze, il peccato produce tre effetti. Uno offende Dio, lo oltraggia, perché è una disobbedienza alla legge di Dio fatta con piena avvertenza e deliberato consenso. E quando questa disobbedienza fatta con piena avvertenza e deliberato consenso cade su cose gravi, assurge al grado di peccato mortale. Con offesa grave di Dio, perché Dio ci ha detto non fare questo. Quindi c'è un disprezzo formale, fatto da noi che siamo dei miserabili, di colui che è l'Eterno e che è colui che ci vuole bene e che ci dice le cose per il nostro bene. E tu ti permetti di dire a Dio tu non capisci niente e faccio come mi pare. Questa è l'offesa di Dio. Seconda cosa, quel peccato macchia la nostra anima. Questa è un'immagine un pochino mistica. Quella macchia la zozza l'anima e la rende automaticamente incapace di stare davanti a Dio. Io per fare capire questa cosa ai miei fedeli faccio sempre l'esempio del sole. Se noi d'estate ci mettiamo a fissare il sole con gli occhi che abbiamo, non nessuno di noi lo può guardare. Quindi quando io faccio un peccato, la macchia che viene lasciata nella mia anima mi rende incapace di sostenere la vista di Dio. Per cui se per assurdo, diciamo così, se Dio volesse portarmi per forza in paradiso con la macchia nel cuore, o dovrebbe fare un miracolo che la toglie automaticamente, ma questo non lo fa perché non sarebbe giusto, oppure non mi si può portare perché se io lo guardo anziché godere della sua presenza sto male. Terza cosa, il peccato richiede, essendo una violazione della legge di Dio, come ogni violazione della legge anche umana, richiede una sanzione, richiede una retribuzione, richiede una riparazione. Quando noi ci andiamo a confessare, che cosa ci dice il prete al termine della confessione? Come penitenza fai questo. Uno potrebbe pensare, ma non le ha già fatte tutte il nostro Signore le penitenze? La risposta è sì e no. Perché sì e no? Sì in quanto la penitenza estrema che ha fatto Gesù viene applicata agli uomini, ma viene applicata soltanto in due casi. Uno, nel sacramento del battesimo. Il sacramento del battesimo cancella tutte le colpe, tutte le conseguenze delle colpe e tutte le pene dovute alle colpe. Due, quando si riceve un'indulgenza plenaria. L'indulgenza plenaria è una grazia particolare che si può ricevere a certe condizioni e che richiede però nell'anima una condizione previa che è molto difficile da trovare, che è il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale. Se c'è questo, l'anima sta in grazia di Dio e compie alcune opere indulgenziate, riceve per sé o per l'anima di qualche defunto questo dono, cioè la grazia che per le sofferenze infinite di Gesù, della Madonna e tutti quanti i santi che hanno fatto innumerevoli penitenze, per il mistero della comunione dei santi vengono applicate alla persona e questa si trova nella condizione di aver soddisfatto la giustizia di Dio. Quindi sintetizzo, quando noi ci andiamo a confessare, allora quando noi ci andiamo a confessare Dio ci rimette la colpa e ci restituisce la grazia, ma la macchia del peccato e il reato della pena, come lo chiama Sant'Ommaso, cioè la necessità di espiare o la penitenza e il male che si è fatto rimangono. Quindi o si fa penitenza in questa vita ed è per questo che il sacerdote dice come penitenza fai questo o fai quest'altro, che però generalmente le penitenze che si danno non coprono tutta la penitenza che si deve fare. Io vi ho già detto in altre circostanze su queste reti che se tu ti andavi a confessare, questo è scritto nei libri, non sono invenzione di Leonardo, se tu andavi a confessarti nel primo millennio che durante il fidanzamento avevi commesso un atto impuro, cioè avevi fornicato, avevi avuto un rapporto prematrimoniale, la penitenza che ti davano era di stare per 7 anni a digiuno a pane e acqua. Non so se mi spiego, immaginate quanti ragazzi oggi… quindi vuol dire che se un ragazzo avessi fatto 10 peccati mortali, cosa facciamo? Moltiplichiamo 7 per 10? 70 anni di digiuno a pane e acqua? Se ne fatti 100? Facciamo 700 anni di digiuno a pane e acqua? Cioè fa pane e acqua pure nel purgatorio dove le animi non mangiano? Non so quindi se capite, quindi meno male che c'è sto purgatorio, perché i peccati di cui dobbiamo ancora purificarci in questa vita, quindi i peccati mortali che sono stati confessati, ok, i peccati veniali che non ci fanno privare della grazia, però lasciano sapere, questo non bisogna fare neanche i peccati veniali, perché i peccati veniali non ci privano della grazia di Dio, quindi se io muoio avendo detto una caterva di bugie non vado all'inferno, ma devo fare un bel po' di purgatorio, perché il peccato veniale non priva della grazia, quindi non offende Dio al punto da farmi diventare suo nemico, mettermi dalle parti del diavolo, però macchia l'anima e obbliga il reato della pena, perché una caterva di peccati veniali ti fa fare un sacco di tempo di purgatorio, per esempio un altro caso celebre di padre Pio, che lo racconto, insomma, celebrò una volta una messa per il papà di un suo confratello frate e terminata la messa vide la sua anima, sapete che padre Pio aveva dei doni, volare in paradiso e lo andò a riferire a questo suo confratello, che dice, guaiò, io oggi ho mandato in paradiso il tuo padre, questo confratello era contento, però era contento, ma era rimasto un po' perplesso e il padre Pio è pure mezza rabbiato, dice, ma come, l'ho mandato in paradiso il tuo padre e non sei mai contento? E lui gli risponde, dice, ma padre, mio padre è morto da 32 anni e mio padre era un bravo cristiano, chi l'ha mai sentito bestimmiare mio padre? Chi l'ha andato a me tutte le domeniche? Ha fatto tanti figli, era un uomo devoto, voleva bene la moglie, è quello che ti ha risposto il padre Pio, ma figlio mio, ma davanti a Dio si paga tutto, tutto si paga, vi ripeto, non vi sto dicendo queste cose per mettervi paura, però capite, tra il mandare tutti in paradiso e il trovarsi dinanzi a queste cose, ci sarà insomma anche una via di mezzo, allora, questo purgatorio come è fatto? Punto interrogativo, è semplicemente come dice qualche attenzione, ma che cos'è il purgatorio? Ah ma il purgatorio è un posto tranquillissimo, dove uno semplicemente per un certo periodo non vede Dio e attende, certamente soffre un pochino per il fatto che sa che Dio esiste e ancora non lo vede, però poi è finito tutto. Non è così? Ecco, allora, il purgatorio, da quello che ci dicono tantissimi mistici, adesso vi leggerò una citazione tratta dal manoscritto del purgatorio, ma la trovate praticamente in tutti i testi che vi ho citato prima, è distinto in tre livelli, tre livelli, vi cito, o tre gradi. Allora, c'è il grande purgatorio, c'è il purgatorio intermedio, cosiddetto, e c'è il purgatorio di desiderio, purgatorio intermedio o secondo purgatorio. Allora, vi dico subito, qui parla un'anima purgante, cito dal testo Suor Maria della Croce, il manoscritto del purgatorio, edizione segno, pagina 50. Quanto ai gradi del purgatorio? Posso parlarvene perché vi sono passata. Nel grande purgatorio, il grande purgatorio è il grado più basso, vi sono diversi gradi, ci sono questi tre grandi, diciamo così generi, all'interno del quale ci sono varie sottospecie, quindi nel grande purgatorio vi sono diversi gradi. Nel più basso e tormentoso, che è un inferno momentaneo, si trovano i peccatori che hanno commesso delitti enormi durante la vita e che la morte ha sorpreso in quello stato senza dar loro che il tempo di appena ravvedersi. Quindi capite, sono grandi i peccatori che al momento della morte, quando Dio dà l'ultimo appello, e questo dobbiamo crederci perché lo dicono praticamente tutti. L'ultimo richiamo, miracolosamente, perché quasi nessuno fa questo, rispondono di sì. Quindi dicono un Amen, dicono un Mi Pento, danno un bacio al crocifisso. Continua la citazione. Essi sono stati salvati come per miracolo, sovente per le preghiere di parenti più di altre persone, per questo è importantissimo che noi preghiamo per la conversione dei peccatori e non ci disperiamo se li vediamo morire senza che apparentemente abbiamo dato dei segni, perché può darsi che quando saremo morti a nostra volta, il Signore ci farà vedere che per le nostre preghiere quello a richiamo fatto da Dio in punto di morte ha detto di sì e se non avessimo pregato noi avrebbe detto di no. Talvolta non hanno potuto, continua la citazione, neppure confessarsi e il mondo li crede per perduti, ma il Buon Dio, la cui misericordia infinita, ha dato loro al momento della morte e la contrizione necessaria per essere salvi in vista di una o di alcune azioni da essi compiute durante la vita. Tuttavia per tali anime, ah che bello, quindi faccio tutto quello che mi pare nella vita e poi al momento della morte dico Signore Pietà, ma fatto per due motivi, primo perché non è detto che riuscirai a dire Signore Pietà, uno, questo non puoi darlo per scontato. Secondo, continua la citazione, per tali anime il purgatorio è terribile, è l'inferno, con la differenza che mentre nell'inferno si maledice il Buon Dio, nel purgatorio lo si benedice e lo si ringrazia di averci salvato, ma per il resto altri scritti dicono che in questo grado c'è la presenza dei demoni, che i demoni possono tormentarli, quelli che stanno in questo grado più basso, è che addirittura per alcuni proprio casi di peccatori gravissimi Dio per un certo periodo di tempo, questo lo dice Maria Simma, non dà a loro la coscienza che sono salvi, cioè dal momento che lì è molto simile all'inferno, abbiamo sentito che è un inferno volontaneo e che ci sono anche i demoni, loro pensano di stare all'inferno, cioè non hanno la consolazione del sapersi salvi, neanche quello, e aggiunge ancora, sempre Maria Simma che può succedere che per un certo periodo di tempo Dio non gli faccia arrivare le nostre messe e i nostri suffragi, che vi pensate? Non è certamente una cosa positiva, è una cosa auspicabile andare in questo grado così basso. Di poi, quindi, questo è il punto più basso del grande purgatorio, poi c'è un secondo livello, di poi vengono le anime che senza aver commesso grandi colpi come le prime, tuttavia sono state indifferenti per il buon Dio. Durante la vita non hanno affatto soddisfatto al precetto pasquale, soddisfare il precetto pasquale vuol dire confessarsi e comunicarsi almeno a Pasqua, cosa che in pochi si ricordano e che ancora meno fanno. Quindi, durante la vita non hanno punto soddisfatto al precetto pasquale e convertite parimenti in punto di morte sovente, non avendo neppure potuto comunicarsi, sono nel purgatorio in sconto della loro lunga indifferenza, soffrendo pene inaudite, abbandonate, senza preghiere, vedete, lo dice anche qui, o se se ne fanno per loro e se non possono trarne profitto. Ancora, in questo brutto purgatorio vi sono religiosi e religiose tiepide, dimentiche dei propri doveri, indifferenti per Gesù, sacerdoti che non avendo esercitato il loro ministero con la riverenza dovuta alla maestà sovrana, non hanno fatto amare abbastanza il buon Dio dalle anime loro affidate. Io, chi parla è una suora, è quest'anima purgante, ho appartenuto a codesto grado. Era una suora tiepida quella che sta parlando. Nel secondo purgatorio, attente pure le suore, ma le suore di Radio Buon Consiglio sono tutte esatte, quindi sicuramente non devono sentirle loro queste cose. Nel secondo purgatorio si trovano le anime di coloro che muoiono colpevoli di peccati veniali non espiati prima della morte, ovvero di peccati mortali rimessi, cioè perdonati, ma di cui non hanno pienamente soddisfatto la giustizia divina. Questo è il purgatorio intermedio. Vi sono anche in detto purgatorio diversi gradi secondo i meriti delle persone. Così il purgatorio delle persone consagrate o che hanno ricevuto più grazie è più lungo e più penoso delle anime comuni. In tutti e due questi gradi c'è il fuoco, il fuoco terribile. Io sono stato, anche questo lo trovate sul sito della parrocchia e anche sul mio canale di YouTube, una quindicina di giorni fa con i ragazzi del postesimo a Roma in una chiesetta chiamata il museo del purgatorio. Non la conosce quasi nessuno. Ci sono testimonianze, se andate a vedere i video nei luoghi che vi ho citato vi trovate, di anime tornate dal purgatorio che hanno lasciato delle impronte nere ma visibilissime del palmo della mano su dei pezzetti di stoffa bianca. Perché le anime del purgatorio, ci dicono questi mistici, bruciano, se ti toccano ti scottano. Ci sono in quel museo segni di cinque dita lasciate, polpastrelli e neri sui libri, macchie visibilissime, sempre sui libri, di tre dita, su una camicia da notte di un palmo della mano. Tutti quanti i reperti si chiama museo del purgatorio, provenienti da ambienti tedeschi generalmente intorno al XVIII-XIX secolo, tutti quanti controautenticati dalle diocesi di appartenenza, quindi riconosciuti come fatti sopranaturali e realmente accaduti approvati dalla Chiesa. Non sono favole inventate da qualcuno. Infine, il purgatorio di desiderio, ecco l'ultimo, che viene chiamato vestibolo. Questo lo evitano ben poche persone, vedete? Quindi anche i grandi santi possono passare per questo. Per evitarlo bisogna avere desiderato ardentemente il cielo e la visione del buon Dio e questo è raro, più raro che non si creda, poiché molte persone, anche pie, hanno paura del buon Dio e non desiderano con abbastanza ardore il cielo. Detto purgatorio ha il suo martirio, bendolosloso al pari degli altri, perché si è privi della visione del buon Gesù e quale sofferenza. Quindi, stare attenti, si chiama vestibolo purgatorio di Dio perché soltanto in questo grado di purgatorio c'è come unica pena quella della privazione della visione di Dio, ma negli altri due si soffre si soffre tanto, capite? Si soffre e si soffre tanto. Ecco, allora, concludiamo. Come possiamo fare noi in vita per evitare il più possibile il purgatorio? Bisogna mettere in pratica ciò che dice la Madonna. Pregate sempre di più e fate penitenza. Fare penitenza vuol dire anzitutto accettare con amore le sofferenze che la vita ci manda, essere fedeli e ligi nell'osservanza della legge di Dio, non cedere alle mode e le massime del mondo e imparare poi piano piano, guidati da una saggia guida spirituale, a fare dei piccoli, medio, grandi fioretti, rinunci e sacrifici a seconda del grado di santità che noi abbiamo da offrire anche in spirito di penitenza, proprio perché il tempo della nostra purificazione sia vissuto qui su questa vita anziché nell'altra. La seconda cosa possiamo e dobbiamo ed è grandissima carità e vi prego di farlo, specialmente la Chiesa si dedica un mese ai defunti perché vuole che in questo mese noi li aiutiamo il più possibile con i nostri suffragi. Che cosa si può fare per le anime dei defunti? La prima cosa, far celebrare le messe, più messe possibile, più messe possibili, non basta una messa al mese. Vi prego, io sono so che molti frati francescani dell'Immacolata, specialmente in missione, sono disponibili. Fate celebrare i cicli di messe gregoriane, le 30 messe consecutive. Io questo non posso farlo, i parroci questo non possono farlo perché non posso con una parrocchia impegnare un mese per una sola intenzione. E state attenti a quando fate celebrare le messe, che molti preti fanno un abuso proibito dalla legge di Dio che è cumulare 300 nomi a messa, cosa che non si può fare. Non soltanto che non si può fare, ma che è un danno grave per le anime per cui viene fatta celebrare la messa, per cui tu fai celebrare la messa per tuo padre. Il prete ci mette vicino a tuo padre altre 10 persone, tu stai tranquillo di ciò che ho fatto dire alla messa, ma quella messa cumulata vale un decimo rispetto alla messa che sarebbe stata celebrata con tuo padre. Adesso è lungo, sarebbe lungo spiegare questa cosa, però dovete credermi, ci sono dei documenti chiari del Magistero e della disciplina della Chiesa che proibiscono questa cosa, e non soltanto per un problema di soldi, è un problema che l'applicazione della messa che dipende dalla volontà del sacerdote non può essere suddivisa dalla più intenzione. Durante le messe si può pregare anche per 100 mila defunti, ma l'applicazione dei frutti del sacrificio caristico di quella messa per particolare, che è un atto finito, sono finiti, quindi sono determinati e se vengono ripartiti tra più intenzione, producono degli effetti frazionati. Uno. Due. Quando anche la messa non la possiamo far celebrare o far applicare, partecipare alla santa messa per le anime del purgatorio, perché anche la partecipazione alla messa, dicono le anime, ha un grandissimo valore di suffragio in loro favore. Tra l'altro, questo ve lo dico, che è una cosa che dice Maria Simma, per me è abbastanza attendibile, Maria Simma dice che se una persona ha la possibilità di andare a messa anche nei giorni feriali e non ci va, il Padre Eterno le farà fare un po' di purgatorio. Queste sono parole sue, perché se io ho la possibilità di santificarmi di più andando a messa tutti i giorni e non lo faccio per pura non curanza o negligenza, questa mistica dice che il Signore ce ne chiede conto. Ovviamente potete fare di questa considerazione, questo non è Magistero della Chiesa, lo uso che volete. La seconda cosa sono i rosari per le anime del purgatorio, il rosario è una preghiera efficacissima, più se ne dicono e meglio è. La terza cosa sono le opere buone, voi sapete che ogni volta che si fa un'elemosina, anche minima, anche l'offerta che si lascia quando si face davvero una santa messa, è un'elemosina e come tutte le opere buone possono essere applicate in suffragio di un'anima del purgatorio. Un'altra preghiera che è quella specifica per le anime dei defunti è l'Eterno riposo, c'è una pratica devota, credo che la facciano, mi pare di averla sentita qualche volta anche se non è un buon consiglio, che è la Corona dei Cento Requiem, che consiste appunto nel recitare Cento Eterno riposo in suffragio del defunto, anche questa è una pratica raccomandabilissima. Poi ci sono due gesti di devozione raccomandati sempre da Maria Simma e che sono molto importanti, che sono aspergere, avete visto la visita al cimitero, secondo voi è utile o non è utile andare in cimitero. Se si va al cimitero come ci andava Ugo Foscolo, pensando che quello sia una specie di simulacro che conserva le uniche cose che restano di una persona che è tanta e morte e che quindi deve andare a venerarne la memoria sul cimitero, non serve a niente. Ma i cristiani non sono mai andati al cimitero con questo fine. I cristiani vanno al cimitero per trovarsi a contatto con le spoglie mortali nella fede della risurrezione, perché nella risurrezione quelle spoglie dipenderanno il corpo, e per pregare per l'anima del defunto e compiere due piccoli gesti sacramentali, sono due sacramentali, tra virgolette, che sono l'aspersione della tomba con l'acqua benedetta, previa benedizione della tomba da parte di un sacerdote, chiamateli i vostri parroci anche quando, come dalle nostre parti purtroppo non si può accompagnare tutte le salme ai funerali, però è bene chiamare il sacerdote e farlo benedire da lui il sepolcro, e poi quando si va è bene aspergere le tombe con un po' d'acqua benedetta. Le anime hanno detto ai mistici che da questo gesto traggono giovamento, così come dall'accendere davanti alle tombe dei ceri benedetti da un sacerdote, ceri, attenzione, di cera vera, non illumini a corrente elettrica. Anche questo gesto è grande sollievo e refrigerio per le anime del purgatorio. Io vorrei dirvi tantissime altre cose, perché chiaramente su questo argomento ci sarebbe ancora tanto da parlare, desideravo, sintonizzandomi con il pensiero della Chiesa, fare una piccola riflessione su questa realtà del morire, sulle conseguenze della morte, su come ci si prepara e anche vi prego di avere una grande devozione, una grande carità per le anime del purgatorio. I santi l'hanno praticata. È opera di grandissima carità, perché mentre le anime dei nostri fratelli e delle nostre sorelle mortali, se non le aiutiamo noi, magari anche essendo nel bisogno, possono in qualche modo aiutarsi da sola, possano cavarsela, possano arrangiarsi, come si dice nel parlare comune, quelle poveracce di anime del purgatorio per se stessi non possono fare niente. Per cui se nessuno gli dà una piccola mano, staranno, come dice Gesù nel Vangelo, lì a pagare i loro debiti, fino all'ultimo spicciolo. Quanto tempo? Anni? Mille? Mille e cinque? Due mila? Fino alla fine del mondo? Non si sa. Grandissima carità che oltre che a fare grande per bene a queste anime, come dice San Pietro, copre la moltitudine dei nostri peccati. E vissero le anime una volta a Santa Margherita Maria della Coccia, con questo concludo, lei era molto devota alle anime del purgatorio, ne vide un giorno volare in cielo, pensate un milione, la guardarono e le dissero grazie Margherita, ricordati che entriamo in paradiso, in paradiso non esiste le di gratitudine, ti ripagheremo profumatamente con la nostro aiuto quello che hai fatto per noi. Siano lodati Gesù e Maria, vi benedico tutti, appuntamento se Dio vuole a martedì prossimo, riprendendo la Catechesi sull'amore umano, a tutti, Ave Maria. Grazie. 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 Grazie.